Benvenuti ragazzuoli in questo nuovo video, oggi 45esimo episodio del New Pondon Siamo pronti, siamo prontissimi ad andarci a giocare un altro match importantissimo Oggi abbiamo il Genoa e un altro match, poi andiamo a vedere come siamo messi E mancheranno, mancano da qui 10 partite, tolti questi due di questo episodio Rimarranno 8 partite, rimanete sintonizzati fino alla fine perché ci saranno delle belle Perché si deciderà tutto all'ultimo Pronti allora, vado a fare la titolare, ci vediamo in campo ragazzi Cambio di formazione di nuovo, proviamo il tutto per tutto con questo 4-2-2-2 Con praticamente i due trequartisti a fare da supporto alle ponte per cercare di creare più occasioni possibili da gol E le andiamo a provare, in uno dei campi più difficili d'Italia per quanto riguarda poi le zone salvezze E c'è Genoa che viene ad affrontare, va ad affrontare il New Pondon, ad ospitare il New Pondon Attenzione a Zirkzee che è scappato via di prima, cerca Walter, viene chiuso in qualche modo da FT E allora Onana prova a far ripartire il Genoa con Grunic Che cerca poi in qualche modo Edward, trovato maggiore, largo a destra, maggiore Se è sempre quel maggiore, sono cent'anni che gioca Qui, fallo di Zenter inesistente ragazzi Fallo inesistente e invece il gioco decide di darlo Attenzione perché parte il destro direttamente sulla barriera Zenter trova lo sfogo in Walter che prova ad andare via Costetto ad aspettare i compagni, sostegno Giustamente torna dal suo capitano Gallo che poi apre col destro Trova Jakobsen che prova a partire ad avanzare Trovato Kuni di prima molto bene da Lipani Che poi va in conduzione Lipani È partito Zirkzee, l'ha visto Lipani Zirkzee fino in fondo, Zirkzee Appoggia per Ciauna che calcia, la palla troppo indietro di poco E Van de Wurt blocca il pallone Prova a far ripartire il Genoa C'è la chiusura di Prati per Lipani col destro cercato In approfondità Zirkzee, non trovato allora un'ana Attenzione a Yeboah Yeboah se l'allunga Yeboah è andato Gallo va in chiusura Voi sbaglia il capitano Jakobsen recupera Allora Lipani Lipani va via in dribbling Lipani poi con la punta tocca per Prati Prati protegge il pallone Prati Cerca una soluzione in Kuni E la trova Kuni ancora da Ciauna Sovrapposizione di Jakobsen Vista e servita Allora Ciauna Torna ancora da Lipani Che poi va in condizione di palla Lipani rischia Trova Zirkzee Che poi trova Prati Prati con un numero Prati Calcia sul fondo Lex Cagliari Poteva far meglio Qui Matteo Prati Ha trovato però solo Il palo esterno Della rete Adesso rinvio lungo Lipani si fa mangiare in testa Da Edward E allora Sarra Prova ad andare in conduzione Poi Onana Baschirotto chiude Allora c'ha una Eccolo Kuni Zirkzee Controlla e vada Walter Prova a partire Walter C'è Dragosine in uscita Ma Walter è andato via Attenzione perché attacca in molti Il New Pontone Walter Kroos A basso Allontana Vasquez Ottimo Zenter di prima Cerca Zirkzee Che controlla E finalmente Trova il gol Dell'1-1-0 Al 44esimo Joshua L'olandese Zirkzee Settimo gol In campionato L'assist di Zenter Risulta Lo spicchio Dei tifosi Del New Pontone Qui Grande azione Grande stop di Walter Che col tacco Kuni prova ad andare via Vasquez Ottima chiusura Sar rischia Si prende la briga di rischiare E poi finisce Il primo tempo 1-0 Joshua Zirkzee Per Kuni Che appoggia Dandur 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 in buca Poi per Ciauna La palla è ottima Ciauna Cestina Tutto col destro Che si vede Che non è il suo piede Intanto Cambio rapido Dentro Ferguson Fuori Prati Credo ci sia anche Un cambio per il Genoa Si Entra Jalcin Esce Yeboah Che non ha fatto Un match Bruttissimo Neanche Super positivo Attenzione Jalcin Appena entrato Palla in profondità Eduard Protegge Eduard Chiude in qualche modo Jakobsen Palla per FT FT Grossa detto Secondo palo Scordato da tutti Scordato da tutti Grucic Scordato da tutti Grucic E uno a uno Dormita Difensiva Anche Soprattutto Da parte di Jakobsen E uno a uno Al volo Intanto c'è una Però prova a rispondere Subito al mio punto On Che deve trovare La vittoria Perché se no sono guai C'è una Va sul fondo C'è una va sul fondo Scarica da Kuni Che appoggia poi Da Ferguson Che cerca un dribbling Non richiesto Allora Dragosin Stradipante Chiude Poi il rischio Non da poco Di Eduard Ma in qualche modo Se la cava Ancora Eduard Poi allarga Per FT C'è fallo Da parte di Indur Che prende anche Il cartellino giallo Non è entrato benissimo Indur Calcio di punizione Al 72esimo Aaron Pronto Alla Alla battuta Cross dentro Cercato Dragosin Baschirotto Non chiude Attenzione In qualche modo Ancora Grucic Fa fallo Indur Calcio di punizione Calcio di punizione Super pericoloso Da quella posizione Entra anche Sadik Esce Eduard Attenzione Grucic Baschirotto Addeviato Un tiro Che era pericolosissimo Sadik E torna sul pallone Il destro Maggiore Martinez Zikze Fino in fondo Joshua Zikze Zikze Appagio per Kuni Funziona La coppia D'attacco Contropiede Perfetto E scusate anche Ma 2 a 1 Joshua Zikze Dentro da Kuni Che di prima Col mancino Mette dentro il tap in Non può sbagliare All'ottantesimo Ripassiamo in vantaggio Il Genoa Stava giocando meglio E questo secondo tempo Ha giocato nettamente meglio E soprattutto Gli ultimi minuti Stava pressando molto Stava rischiando Di andare a trovare Il gol Del vantaggio Poi si sono scoperti troppo Ferguson Ha fatto un lavorone Col pallone E 2 a 1 Attenzione Sadik Nella di rigore Baschirotto Grande chiusura Non riesce a devintare L'angolo però Allora calcio d'angolo Pronto Entrare lungo Esce Zenter Per questi ultimi 5 minuti Pronto Aaron Può provare il cross Lo prova Troppo Su Martinez Che ringrazia Lex Mette la palla a terra E fa ripartire Baschirotto Perché c'è spazio Baschirotto Porta il pallone E poi in buca Per Ferguson Che aspetta poi L'inserimento di Zig Z Ma va dentro Saggiamente da Walter Che trova ancora Baschirotto Baschirotto poi in buca Col mancino Cercato Zig Z Che protegge Zig Z Salta il portiere Forse no Grande parata di Tordet Tordet era Tordet Quello del Sassuolo Tordet e Van Der Goet Perché Tordet? Finisce qui Altro 2 a 1 Come contro la Juventus Ma stavolta in casa del Genoa Comunque tre punti fondamentali I nostri due bomber Liguria New Ponton Sampdoria Però la Sampdoria Che viene da noi E ospitiamo dunque La seconda squadra Un'altra squadra della Liguria La Sampdoria Pronto il New Ponton Ad andare A cercare di offrire Una vittoria anche contro di loro Attenzione Battaglia Ecco Che cercava la profondità Per Kuni Non trovato oggi C'è quello di cambio Battaglia al posto di Dice a una Barreiro Avrebbe il Berezischi La valle è ottima Attenzione Berezischi Si estende la Samp Berezischi Zenter non recupera Cross dentro E c'è l'1 a 0 Barreiro Mangia in testa Baschirotto E sblocca un match Incredibile Tra l'altro ragazzi Sono andato a spulciare E abbiamo Dopo questa partita La Lazio Ma dopo di che Avremo Il quarto di finale No Scusate La semifinale Di Coppa Italia Contro la Juventus Quindi Capite da voi Che Non sarà facile Per niente Tra l'altro Il quinto gol stagionale In 23 match Di Barreiro Bellissimo Contro di noi Chiaramente Diciamo non benissimo Kuni però Va sul Berezischi A riprendersi il palone Di fisico Si gira Appoggia dentro Per Walter Che controlla E calcia Il nostro DS Finalmente 1 a 1 Dalla distanza Un gol Stupendo L'assist di Kuni Il controllo E il tiro È tutto suo Da 17 metri Walter Che non so se ci diranno I gol stagionali Ma sono pochi Se non erro Sono 4 In Serie A E comunque Bene così 1 a 1 Pareggia il New Ponton Contro una Samp Comunque digna Perché sta giochendo Una buona partita Barreiro Adesso protegge Su Gallo Che prova ad entrare Poi in scivolata Ma in qualche modo Va via Barreiro Che riesce a puntare la porta Poi col tacco Appoggia da Ronaldo Vieira Che sposta La balla Zenter Che poi va da Joshua Zierkzee Che appoggia ancora da Kuni Apertura per Walter Che prova ad andare via In velocità Walter Su Berezischi Che poi rientra Walter Ancora in profondità Walter In bucata per Kuni Trovato d'Angelo Zierkzee Walter è ancora partito Indemoniato Walter Che poi cerca ancora Zierkzee Che punta l'area Zierkzee 2 a 1 Joshua Zierkzee Grandissimo gol In dribbling Walter cerca proprio L'olandese Che sposta palla Non può nulla Poi sul bolide Di Joshua Zierkzee Che trova il nono gol In stagione O l'ottavo Quindi si avvicina La doppia cifra Grande gol Importantissimo Per il recupero New Ponton Che ribalta Totalmente il risultato Palla dentro Per Barreiro Che prova a girarsi Col tacco Ha trovato in qualche modo La palla Incredibile Che passa Per Verre Che col mancino Sul primo palo Trova il 2 a 2 Nessuno in chiusura Bene così Incredibile 2 a 2 C'è l'inserimento Di Zierkzee Visto servito Calcia col destro Tiro deviato allora Ancora Sampdoria In contropiede con Barreiro Gallo Grande chiusura Ma c'è fallo Secondo l'arbitro Chiaramente Per loro Sono tutti falli A me non me ne ha fiscato a mezzo Attenzione Awara Recupera un grande pallone Awara Appoggio per Kuni Che controlla e calcia Kuni 3 a 2 3 a 2 Preso di nuovo Di nuovo il match Per i capelli Adesso dobbiamo andare a difendere Attenzione a Berre Che sposta a palla Barreiro Gallo Grande chiusura Allora Walter Col mancino Cerca Zierkzee Brutto errore Ancora della difesa Della Sampdoria Zierkzee andato via Zierkzee in rete rigore Zierkzee Un miracolo di Audero In realtà Neanche troppo bene Zierkzee Attenzione a Zenter Servito in rete rigore Zenter troppo solo Walter Controlla e calcio A tiro deviato Allora riparte la Sampdoria Con il contropede di Gomez Che prova ad andare via Attenzione Barreiro Messa male Adesso la difesa New.ondur Grande chiusura Senza fallo di Indur Brava che ha lasciato Continuare l'arbitro Allora attenzione Walter Fino in fondo Walter 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 Tocco sotto Per qualcuno Non c'è nessuno Indur Va a lottare Si falla ancora Che da Walter Che va da battaglia Che tira devia Battaglia ancora Kuni controllo Tiro deviato ancora Fusum Inza controlla Tiro calcio Palla sul fondo Ma finisce qui 3 a 2 Vittoria Fondamentale Vittoria fondamentale Per New.ondur Che fa 6 punti Facciamo 6 punti In queste due partite Bellissima partita Questa contro la Sampdoria E ci sono Buone notizie Perché con questi 6 punti Abbiamo scavalcato La Roma Tra l'altro Tra le altre cose Abbiamo una partita In meno Sia di Roma Che di Milan Quindi io credo Che per quanto riguarda Il discorso Europa Se continuiamo così È accantonato Perché siamo più 7 Dalla Fiorentina Siamo a più 1 Dalla Roma Che è in conference Più abbiamo una partita In meno E in più Abbiamo il Milan Che è a pari punti Con noi Ma con una partita In più E quindi Se dovessimo vincere Andiamo addirittura A 4 punti a 4 punti Abbiamo 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 2 gol in meno Subiti Del Sassuolo Che è ottavo Poi ne facciamo un po' Non tantissimi Però ne facciamo Ci stanno un po' Di problemini Comunque Siamo ancora in corsa Per tutto Ci sarà La Juventus Dopo la Lazio E questa è una cosa Che mi fa imbestelire Ragazzi C'è C'è una settimana Di pausa Dove non giochi Nessuna partita Poi giochi Un campionato E due giorni dopo in Coppa Ma me ne gioca a distanti Vabbè Comunque Detto questo A posto Ci vediamo Al prossimo match Al prossimo episodio Mancano 8 partite Alla conclusione Del campionato Più abbiamo Eventualmente Due partite Sicuramente Che sono andate A ritorno Di semifinale Di Coppa Quindi 10 partite totali Più un eventuale finale Sarà una stagione Comunque incredibile Ci vediamo Direttamente Al prossimo video Rimanete qui Ciao